Sapete chi è la moglie di Terence Hill? Da non credere, ecco chi è la donna che da oltre 50 anni ha rubato il cuore all'attore Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta. Terence Hill è sicuramente uno degli attori più apprezzati del momento In questi anni ha recitato in alcune delle fiction più famose in Italia In pochi però conoscono la sua vita sentimentale, per questo motivo oggi vi presentiamo sua moglie Lori Hill Conosciamola meglio. Terence Hill, ecco chi è la donna che gli ha rubato il cuore Terence Hill e sua moglie Lucy sono sposati da moltissimi anni Generalmente, non siamo abituati a vedere personaggi del mondo dello spettacolo con storie d'amore così durature Eppure l'attore e sua moglie sono un'eccezione, i due si sono conosciuti nel lontano 1967 e da più di 50 anni sono felicemente sposati Si tratta di un rapporto unico che si basa sul rispetto e sulla fiducia In ogni modo, la loro relazione è stata sempre vissuta lontano dai riflettori Infatti non abbiamo molte informazioni su di loro. Ma andiamo a scoprire ulteriori dettagli sulla bellissima moglie di Terence Ecco chi è la moglie di Terence Hill. Terence Hill è uno degli attori più noti della tv e del cinema italiano In pochi però conoscono sua moglie Lori, una donna bellissima e di grande carattere Il suo vero nome è Lori Wicklboy e oggi ha più di 50 anni, anche se non li dimostra affatto I due si sono conosciuti giovanissimi a Roma sul set del film Dio perdona, io no Lori Hill, ecco chi è la moglie di Terence Hill sin da subito è scattato il colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati Infatti, in brevissimo tempo si sposano e hanno dei bellissimi figli D'altronde da due genitori del genere non potevano che nascere dei bambini splendidi Entrambi buondì e occhi azzurri, sembrano essere fatti apposta per stare insieme Anche Lucy è stata una nota attrice, ma al contrario del marito è una persona molto riservata e non ama stare al centro dell'attenzione Dopo aver smesso con la recitazione, Lucy ha deciso di fare regia tra i suoi successi troviamo la sceneggiatura di Lucky Luke e Don Camillo Voi cosa depensate? Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!